Dunque, siamo qui rivolgendo praticamente un appello, un appello ai cittadini di Montevarche, agli sportivi, a tifosi e l'appello consiste nell'acquisto di una nuova sede per Memoria Rosso Blu. Questo si rende necessario perché la sede in cui ci troviamo attualmente è stata messa in vendita per cui probabilmente in qualsiasi momento potremmo essere sfrattati, diciamo così. Comunque ringraziamo la famiglia Monticini che ci ha ospitato fino a oggi anche in maniera sinceramente agevole, però ecco noi abbiamo bisogno necessariamente di una sede fisica per tutte le nostre attività, per gli eventi che facciamo, per le tessere che dobbiamo fare, insomma per gestire 300 e rotti soci abbiamo bisogno di una sede fisica e quindi questo ci creerebbe un grosso problema anche perché tutti i cimeli, tutto quello che abbiamo qui non saprebbe dove metterlo e quindi il rischio sarebbe veramente grande. Poi crediamo fermamente che Memoria Rosso Blu ormai è diventata un'istituzione, una cosa importante secondo noi per Montevarchi, per i cittadini e quindi sarebbe una perdita veramente dolorosa. Noi abbiamo pensato anche alla sede nuova che abbiamo individuato nel centro storico perché noi vogliamo rimanere comunque nel centro storico. Il progetto l'abbiamo chiamato Idea Sede, noi restiamo in centro, perché diamo valore proprio a stare qui nel centro di Montevarchi e diventerà poi quello che vorremmo che diventi appunto un punto di riferimento per i tifosi delle varie generazioni. Quindi come ha detto prima anche il Presidente, questa raccolta fondi partirà da domani, da giugno appunto, da metà giugno e avrà la durata di un anno. L'obiettivo sarà di raggiungere 27 mila euro. I fondi raccolti appunto, e sarà scritto anche nella causale, che se uno poi vorrà fare un bonifico ci andrà scritto, è l'acquisto della sede nel centro storico. Gli sportivi saranno informati attraverso i social, attraverso il sito web, l'email, l'importo sarà aggiornato mensilmente. Come si può contribuire? Si può contribuire attraverso una cedola che si può acquistare qui nella nostra sede attualmente in Via Roma o attraverso un bonifico bancario su un conto apposito che abbiamo aperto presso la Banca del Valdarno Credito Operativo. Quindi diciamo ci sono tutti gli strumenti, noi accettiamo qualunque contributo, un'erogazione che può venire dagli sportivi ai cittadini e quindi vi aspettiamo presto la nostra sede.